Ancora incidenti mortali su trattori e moto zappe. Asili e variazioni al bilancio al centro del Consiglio Comunale. Ricci cammina alla scoperta della Pesaro che cambia. Pesaro e Fano, allarme per la sparizione dell'azienda Marche Nord. Santa Veneranda, sistemato e degradato ponte di via del Rio. Buonasera cari telespettatori e cari telespettatori. Buonasera cari telespettatori di Rossini TV per questa nuova edizione del Rossini News. Telegiornale di martedì 31 di maggio che apriamo con la cronaca. E purtroppo con un altro lavoro agricolo praticato per hobby che è degenerato in tragedia. Ieri sera nelle campagne sovrastanti il quartiere pesarese di Muraglia è morto Arcangelo Balduini. 82enne vigile del fuoco in pensione con la passione per la cura dell'orto. Si tratta del quarto infortunio mortale in campagna ai danni di pensionati pesaresi in questi primi mesi del 2022. Balduini è morto travolto dalla sua motozappa mentre stava facendo marcia indietro e per cause da accertare ha sbattuto contro una rete. Il mezzo fuori controllo lo ha colpito violentemente al torace e la fresa in azione gli ha maciullato una gamba. Lo scorso venerdì è invece uscito miracolosamente in leso un 66enne di Pian di Meleto che col suo trattore è precipitato per 50 metri su un terreno impervio venendo soccorso dai vigili del fuoco e dall'eliambulanza. E c'è stato un incidente questa mattina in autostrada nel territorio di Pesaro dove un autocarro ha perso il controllo del mezzo per poi rovesciarsi. I vigili del fuoco sono intervenuti mettendo in sicurezza la strada e soccorrendo l'autista che ha riportato ferite lievi. A causa dell'incidente si sono create code e disagi all'altezza del casello di Pesaro. Dibattito su asili estivi, variazioni al bilancio e nuove opere su scuole e impianti sportivi. Sono questi i temi trattati nel Consiglio Comunale di ieri sera. Dopo l'esclusione di 110 bambini presenti in graduatoria, il dibattito sull'apertura di ulteriori asili nidoestivi nella città di Pesaro è arrivato fino all'aula del Consiglio Comunale. Lo ha fatto prolungando le schermaglie politiche che da settimane accompagnano la tematica ma senza garantire quelle risposte certe che aspettano le famiglie. Da un lato il jacuzzi della mozione di Giulia Marchioni e Dario Andreolli su un servizio per le famiglie non adeguatamente considerato nei capitoli di spesa e dall'altro il filo diretto con un'amministrazione regionale pronta a supportare il tutto con stanziamenti dedicati. Lunedì sera però non è arrivata la risposta sperata su un'apertura di un quinto plesso estivo con l'assessore Camilla Murgia che ha difeso lo stanziamento di 500.000 euro per dare risposta a 147 bambini dei nidi e 248 bambini delle materne. Intanto nelle Consiglio Comunale di ieri è stato approvato con 21 voti favorevoli e 7 contrari la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che sblocca i contributi per l'intervento da 3 milioni e mezzo per la scuola Anna Franche e quello per gli impianti sportivi che consentiranno di procedere alle coperture delle tribune dello Stadio Benelli e del campo da rugby Toti Patrignani. Per l'assessore Nobili si tratta di uno sblocco che mantiene il bilancio in ordine riuscendo a rispondere anche al caro Energia. Fra le interrogazioni in Consiglio Comunale è spiccata invece la risposta dell'assessore Alfari Riccardo Pozzi al consigliere Riccardo Biagiotti. Interrogazione che fu anche documentata da Rossini TV in merito al contenzioso fra il Comune e la società Porta Cappuccina per l'acquisto dell'area parcheggio fra stazione e cavalca ferrovia di cui Porta Cappuccina è proprietaria. Pozzi ha confermato che ci sono 515 mila euro già stabiliti per l'esproprio e ha sottolineato come non ci sia stato alcun cambio di volontà di acquisire l'area così come non è stato scritto da nessuna parte di voler procedere all'acquisto diretto. In ogni caso resta un procedimento in corso in cui il Comune è stato citato per danni e in attesa della sentenza. E in Consiglio Comunale si è anche discussa l'interrogazione sul degrado del ponte di Via del Rio che vi abbiamo segnalato due settimane fa alla presenza del consigliere Emanuele Gambini, firmatario dell'interrogazione. Come potete vedere da queste immagini l'interrogazione non solo ha avuto risposta positiva ma ha già visto avviare alla conclusione i lavori auspicati con la manutenzione straordinaria dei parapetti usurati presenti lungo l'attraversamento del Genica. Barriere che sono state sostituite con elementi in acciaio attraverso un finanziamento di 55 mila euro derivato dal PNRR. E ieri sera il sindaco di Pesaro Matteo Ricci assieme a decine di cittadini ha tenuto l'appuntamento a spasso col sindaco alla conoscenza della Pesaro che cambia. Vale a dire alla scoperta di tutte le opere pubbliche finanziate che cambieranno il volto della città nei prossimi anni. Microfono in una mano, smartphone nell'altra è il portale peserochecambia.it a fungere da navigatore creando percorsi fra le opere pubbliche della città. Quelle completate, quelle in corso o quelle che devono partire ma che hanno già ottenuto finanziamenti. Peserochecambia.it è la nuova bussola della giunta Ricci per l'operazione trasparenza su investimenti pubblici nelle opere grandi e piccole della città. Sindaco che ieri sera è passato dall'online del sito web all'offline di una camminata in compagnia di decine di cittadini per spiegare quanto si è fatto e quanto ancora si realizzerà. È un modo per far partecipare i cittadini ad una fase storica piena di insidie iniziare da questa maledetta guerra e dall'inflazione ma anche piena di opportunità. Stiamo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana portando a Pesero tantissimi investimenti sia legati al PNRR che anche extra PNRR e ovviamente non c'è la consapevolezza nella città di quello che sta succedendo. Quindi abbiamo fatto questo sito che si chiama Peserochecambia che diventa un modo per verificare periodicamente come vanno i lavori anche per rendersi conto della mola enorme di investimenti. C'è anche un salvadanaio dove contiamo tutte le risorse che arrivano. Siamo arrivati a un miliardo e 600 milioni quindi davvero una cifra spropositata e adesso abbiamo l'ansia di far conoscere questi investimenti che sono in arrivo a Pesero finanziamenti contenuti, non progetti campati per aria e ovviamente speriamo di realizzarne gradualmente il più possibile. Una camminata partita da Rocca Costanza, uno dei finanziamenti che ha reso Ricci più orgoglioso. Qui siamo a Rocca Costanza, è un bene del demagno molto complicato siamo riusciti a fare un accordo tra De Magno e il Ministero della Cultura e quindi sovrintendenze comune per cui verrà completamente ristrutturato verrà spostato all'archivio di Stato e al tempo stesso abbiamo ottenuto più di 2 milioni per fare il Museo Dario Folfrancarame. Quindi un bene storico, culturale, uno dei più importanti della città che gradualmente nei prossimi anni riprenderà vita e diventerà centro nazionale perché avere il Museo di Dario Folfrancarame è davvero una grande opportunità per tutto il territorio. Un luogo che si trasforma in una struttura museale unica sul panorama nazionale in una sorta di analogia con quanto accadrà nella vicina via San Francesco col Museo della Motocicletta laddove sorgeva il vecchio tribunale. E quindi qui verrà realizzato il Museo Nazionale della Motocicletta che non esiste in Italia. Un'operazione fatta con il Ministero della Cultura insieme all'ASI e quindi tutta la struttura verrà dedicata al museo. Ospiterà ovviamente la collezione Morbidelli e è a disposizione dei principali collezionisti italiani e internazionali. Analisi sulle strutture ma anche sui collegamenti. Vedi l'illustrazione di nuovi percorsi ciclabili. Abbiamo finanziato la ciclabile su Via Cialdini perché oggi da Loreto venendo qua non c'è la ciclabile. Abbiamo ragionato con i nostri tecnici su dove farla perché dobbiamo cercare di impattare il meno possibile sui parcheggi. Abbiamo deciso di farla sui lati e quindi avremo una ciclabile su Via Cialdini simile a quella di Viale della Repubblica. In un rimbalzo di microfono fra Ricci e il vice sindaco Vimini l'illustrazione in passeggiata ha passato in rassegna anche luoghi chiave come Palazzo Olivieri, gli orti giuli, l'ex carcere minorile e, per dirla con le parole di Ricci, anche il cantiere che fin qui ha fatto più arrabbiare, l'ex palasporti di Viale dei Partigiani, futuro auditorium Scavolini. Abbiamo deciso di fare questo auditorium da 2.000 posti costruito sull'esigente della musica, quindi del Rossini Opera Festival, ma poi sarà fondamentale anche per i convegni, per i congressi, per altre manifestazioni, perché a due passi dal mare, dagli hotel, a due passi dal centro. Quindi, adesso, coloro che sono dentro usciranno nei prossimi giorni e dobbiamo affidare gli ultimi 2.500.000 di lavori, che sono lavori importanti, ma diciamo di finitura, non strutturali. I lavori strutturali, il tetto, i lavori alle fondamenta, quelli più importanti sono stati fatti. Mancano 2.500.000 tra impiantistica elettrica, termoidraulica e alcuni lavori edili esterni, insomma, ancora c'è un po' di lavoro. Speriamo davvero di finire presto, perché ci ha fatto molto arrabbiare, ma il tempo stesso è molto importante. E proprio il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, assieme al sindaco di Fanno, Massimo Seri, ha chiesto un appuntamento urgente con il presidente della regione, Francesco Acquaroli, per scongiurare la chiusura dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Chiusura che sembra trapelare dalla riforma della legge sanitaria sulla quale sta lavorando la regione Marche, regione che in tal senso prevede anche di azzerare l'Asur e trasferire i servizi territoriali su cinque aziende sanitarie provinciali. Per Ricci e Seri, la cancellazione dell'azienda ospedaliera non aiuterà l'eccellenza medica del nord della regione e continuerà ad aumentare la mobilità passiva. I presidi e i rappresentanti degli studenti del campus scolastico si sono incontrati oggi in prefettura in un incontro programmato alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi, del direttore dell'ufficio scolastico regionale Ugo Filisetti ed i rappresentanti delle forze dell'ordine. L'incontro è stato organizzato dopo i recenti episodi di aggressioni violente avvenute all'esterno del campus scolastico. Il prefetto ha valutato le criticità presentate da studenti e docenti per studiare nuove misure di controllo e di sicurezza. L'immagine che vi mostriamo ora vi si riferisce all'installazione da parte del comune di Pesaro di quattro nuove telecamere di videosorveglianza all'interno del parco Miralfiore. Un intervento volto ad aumentare la sicurezza nel parco che prossimamente vedrà ulteriori installazioni di telecamere anche su Viale Trieste e lungomare Nazario Sauro. Nella notte appena trascorsa una violenta grandinata si è abbattuta a cavallo fra le province di Pesaro e Ancona martoriando soprattutto il territorio comunale di Mondavio dove risultano danneggiati decine di ettari di vigne e coltivazioni di grano e ortaggi. E prosegue il ciclo di incontri promossi dalla Regione Marche per presentare bandi e opportunità rivolti agli imprenditori agricoli sui temi legati alle politiche di sviluppo rurale. Il prossimo appuntamento è domani alle ore 17.30 al centro sperimentale Assam di Sant'Angelo in Vado. L'incontro si focalizzerà sui temi tartufaia e filiera legno-energia. E la Caritas di Pesaro è sempre più attenta nel sollecitare la sensibilità dei giovani verso il volontariato e verso il sentimento dell'accoglienza. Lo fa attraverso tre progetti che partono in questo mese di giugno. Il primo progetto che vogliamo presentare è Young Caritas ed è l'opportunità per giovani dai 18 ai 30 anni di fare un'esperienza di 12 mesi in Caritas. Quindi un'esperienza che avrà anche appunto una retribuzione di 500 euro al mese per stare nei nostri luoghi con le persone che sono accompagnate da Caritas e per vivere appunto questa lunga perché 12 mesi sono sicuramente impegnativi questo lungo percorso insieme a noi. L'altra iniziativa è quella del Caritas Camp che è legata strettamente al progetto che portiamo nelle scuole, negli istituti superiori. Da alcuni anni, purtroppo durante la pandemia l'abbiamo dovuto sospendere ma da alcuni anni portiamo nelle scuole un progetto che fondamentalmente vuole parlare con gli studenti, vuole evidenziare quelle che sono soprattutto le povertà non solo materiali ma anche relazionali. Alla fine di questo progetto in classe proponiamo una visita alla Caritas diocesana. Quindi gli studenti si muovono dalla scuola e visitano, osservano quello che noi facciamo giornalmente. A questi ragazzi facciamo questa proposta perché non state con noi una settimana in estate e quest'anno sarà dal 13 al 17 di giugno. È una proposta residenziale, quindi vivere insieme per una settimana rivolta a circa 15 giovani delle scuole superiori, diciamo nella fascia terza e quarta superiore per appunto fare la mattina proprio un servizio nei vari ambienti caritas, la mensa, il centro d'ascolto mentre nel pomeriggio pensavamo tutta una serie di laboratori di incontri per una crescita che possa essere personale e che possa anche dare a questi ragazzi una conoscenza della società che li attornia. L'ultima proposta è una proposta di volontariato internazionale si chiama REMAP ed è una proposta che facciamo a livello regionale. Sarà possibile fare un viaggio lungo quella che viene definita rotta balcanica in particolare in Bosnia e Herzegovina sarà un viaggio di servizio nei campi profughi che ospitano profughi provenienti da vari paesi che percorrono questa rotta e poi dopo il viaggio non finisce qui perché chiederemo ai partecipanti di continuare il loro impegno in caritas e di portare una testimonianza di questa esperienza che potranno fare. E continuano gli appuntamenti sportivi in programma infatti domenica nel Monte San Bartolo andrà in scena la quattordicesima edizione della Corsa Podistica La Panoramica. Vediamo. Dopo lo stop di due anni causa emergenza sanitaria domenica 5 giugno con la partenza fissata alle 9 del mattino riparte la gara podistica La Panoramica un percorso di 21 chilometri immersi nel verde del Parco San Bartolo che raccoglierà agonisti sia dalle Marche che dalla Romagna. Un evento organizzato dalla ASD Atletica Centro Storico che quest'anno ha voluto dedicare questa quattordicesima edizione al socio Sandro Pandolfi scomparso poco tempo fa. Un'iniziativa dallo scopo benefico dato che parte del ricavato verrà donato ad AIDO associazione italiana donazione organi. È praticamente una mezza maratona che parte da Piazza Europa di Baia Flaminia di Pesaro e farà un giro di boa dopo 10 chilometri e 500 metri e rientrerà sempre Piazza Europa. È un percorso collinare all'interno del Parco San Bartolo dove saranno previsti quasi 300 atleti da sia Marche che anche Romagna e con anche di alto livello. Quindi siamo contenti appunto di far ripartire questa gara di notevole importanza e aspettiamo un po' tutti anche degli spettatori qua della zona. Ed è anche diciamo una vetrina per mostrare le bellezze paesaggistiche del territorio. Certamente, anche qui è una cosa importante è giusta a ribadire che Pesaro ha il Parco Naturale San Bartolo che ce lo invidiano un po' tutti quindi siamo lieti di farlo visitare anche tramite la corsa. La differenza di quest'anno è a livello di percorso nel senso che prima si svolgeva da Gabizze fino a Pesaro. Quest'anno per vari motivi logistici e altro abbiamo pensato di fare andata e ritorno sempre dallo stesso punto. Vincerà, cosa vincerà e quali saranno i premi e chi verrà premiato? Allora, i premi sono tanti. Ci sono i premi chiaramente per le prime posizioni e anche i premi di categoria per le varie fasce di età. I premi sono notevoli, sono bellissimi sono offerti dallo spazio Conad di Pesaro per una gran parte e poi ecco, per i primi chiaramente ci sono dei premi di notevole importanza. Allora, le iscrizioni stanno per scadere in realtà la maggior parte si è già iscritta comunque ancora abbiamo qualche giorno quindi fino a giovedì 2 giugno tramite il sito Endu è possibile chiaramente per i competitivi quindi gli agonisti di iscriversi. E dallo sport passiamo alla corretta postura un tema che è stato oggetto del convegno tenutosi lo scorso venerdì all'hotel Baia Flaminia di Pesaro alla presenza di Vincenzo Canali ideatore dell'omonimo metodo posturale un argomento che potrete approfondire in uno speciale che trasmetteremo domani alle ore 21.20 sul canale 80 di Rossini TV. Intanto vi anticipiamo l'intervento del professore Vincenzo Canali in questa intervista realizzata dal nostro Antonio Astuti. Vincenzo Canali, non a caso il suo metodo si chiama Canali è questo l'oggetto di questo convegno organizzato a Pesaro e si parla di postura ma ne parliamo in una maniera totalmente innovativa. Sì, noi siamo il primo metodo internazionale che nasce dalla kinesiologia quindi non dalla fisioterapia perché consideriamo la parte muscolare che c'è all'interno del mondo della postura noi abbiamo un percorso medico un percorso strumentale e una parte muscolare infatti non a caso abbiamo due medici che si interessano di parte nervosa sono due neurologi e noi abbiamo portato alla ribalta il concetto che quando all'interno del muscolo il sistema recettivo dà una risposta negativa sul sistema di allungamento o di contrazione del muscolo produce delle zone di compenso quindi il dolore spesso non è un trauma ma è la conseguenza del fatto che il corpo nasconda la parte realmente problematica sovraccaricandone un'altra quindi molto spesso noi per andare a lavorare su un problema lavoriamo dalla parte opposta ed è per quello che possiamo lavorare anche come insegnanti di educazione fisica non andando mai a lavorare sulla zona del dolore è come se qui anziché andare a curare il sintomo si andasse a curare la causa è un po' una vera e propria forma nuova di medicina lo sappiamo che è questa cui la ricerca sta puntando e mi pare che anche nel suo settore stia avvenendo questo grazie al suo metodo questo metodo è fortemente innovativo su questo aspetto perché noi tantissimi anni fa abbiamo capito questa cosa che attraverso la Sapienza di Roma il CNR l'Istituto Besta di Milano lo Sbaro Research University di Philadelphia e anche il Get Well Spine Center di Rovereto che si appoggerà all'ospedale San Camillo di Venezia stiamo mettendo insieme questo percorso di ricerca infatti noi lavorando sulla causa perché i traumi da carico iterativo non sono traumi diretti un accaduto, un incidente sono piccole forme di sovraccarico negli anni l'organismo legge che quando una parte del corpo è inadeguata e va in difficoltà è meglio sovraccaricarne un'altra quando quella sovraccarica non ha più margine arriva il dolore quindi noi andiamo a ripristinare la situazione muscolare partendo dalle risposte che i recettori ci danno e questo ci permette di comprendere e di arrivare alla causa del problema e questa era l'ultima notizia prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata infatti questa sera alle ore 21.20 come tutti i martedì andrà in onda qua la Zampa con replica poi nel corso della settimana il programma con Jack Lucchetti e poi domani mattina come tutte le mattine in diretta alle ore 7.20 buongiorno Rossini la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesaro Urbino e con questo è veramente tutto vi ringrazio per averci seguito arrivederci